Mister Benedetti esordio positivo per la Baldaccio Brunianghiari anche in campionato 2-0 contro la Lastrigiana, avversaria che si è confermata comunque difficile e nonostante le insidie appunto che nascondono sempre le gare di debutto però la Baldaccio oltre al risultato ha disputato sicuramente anche una prova positiva. Sì, penso che alla fine il risultato sia ampiamente meritato, è stata una partita difficile perché sapevamo già in partenza, affrontavamo una squadra che l'anno scorso ci aveva fatto soffrire, una squadra che davanti ha un buon potenziale offensivo però siamo stati bravi, siamo stati ordinati, abbiamo sofferto un po' nella fase centrale del secondo tempo dove ci siamo un po' abbassati abbiamo perso un po' in aggressività anche se in grosse occasioni a loro non ne abbiamo mai concesse, ci siamo sempre difesi bene con ordine e comunque riuscivamo ad essere pericolosi negli spazi che ci concedevano, in uno di questi abbiamo messo abbastanza sicuro la partita potevamo già andare sul 2-0 nel primo tempo perché dopo il vantaggio abbiamo avuto un'altra grossa occasione con Quadroni però tutto sommato va bene, era importante partire bene perché la prima gara di campionato si sa che è sempre molto difficile l'impatto col campionato è sempre difficile però la squadra si è ben comportata e ora guardiamo avanti cercando di migliorare sempre di più Se Quadroni ovviamente una certezza, una conferma importante, è bello che all'esordio abbia segnato anche uno giovane come Seno Sì sì, importante, era la sua prima partita, è un giocatore anche lui con caratteristiche offensive, si è fatto trovare pronto e giustamente è stato premiato dal gol Per quello che riguarda la tenuta difensiva anche nei momenti in cui, come sottolineava prima, la Baldaccio ha sofferto è comunque positivo non aver concesso occasioni, significa che c'è la quadratura che eravamo abituati a vedere anche nella scorsa stagione Sì, anche se in quel momento ci siamo abbassati troppo, abbiamo concesso un po' di campo a loro rispetto a quello che avevamo concesso nel primo tempo Poi nei primi 15 minuti del secondo, però nonostante quello siamo stati bravi dietro nei duelli Era importante oggi vincere i duelli individuali dietro e loro comunque hanno dei giocatori importanti davanti come Di Tommaso Che l'anno scorso è stato il capocannoniere, Bianchi che è un altro ottimo giocatore Però siamo stati bravi, siamo sempre stati ordinati, siamo sempre difesi con ordine senza mai concedere occasioni Dopo gli infortuni della scorsa stagione anche Zurli e Terzi sono ormai praticamente pronti anche per essere chiamati in causa per i 90 minuti Sì, ora vengono da due infortuni quindi stanno bene, a livello fisico stanno bene E' chiaro che hanno bisogno ancora di condizione, di migliorare la condizione, però questa arriverà col tempo Ora considerando anche gli impegni di Coppa Italia ci sarà spazio per tutti Ecco, mercoledì si torna in campo il match di ritorno con la Castiglionese, l'andata il 4-0, insomma un successo rotondo Però come sappiamo nel calcio serve sempre tante attenzioni e soprattutto sarà un'occasione ulteriore per preparare anche il match di domenica contro la se stesse Sì, sì, sicuramente noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia Anche se l'andata è finita con un vantaggio abbastanza largo a nostro favore, però si sa che nel calcio è un attimo rimettere in breve tempo in discussione tutto Quindi dobbiamo essere pronti, sicuramente andremo in campo convinti per fare una buona prestazione